Benvenuti su Ilo Photoshop, nuovo appuntamento per le idee fotografiche. Oggi vi propongo un gioco con gli Shanghai, quindi un'idea fotografica mezza italiana e mezza cinese. Vediamo cosa sono riuscito a inventarmi per questo nuovo episodio. Sono fotografie che si possono realizzare in casa. Ho utilizzato come sfondo una carta da pacchi, una carta da regalo, quindi magari possiamo trovare qualche cosa che possa accostarsi. L'ho posizionata a limbo, come vediamo nel video, quindi con questa curvatura che non fa vedere spigoli e angoli e posizionata molto vicina alla fotocamera per poter inquadrare bene, poter riempire l'inquadratura. Ho impostato un tempo di scatto lento. Come fare? Utilizzando la luce alla finestra, quindi con soltanto quella fonte di luce, e con una sensibilità non alta della macchina e un diaframma abbastanza chiuso, insomma intermedio, ho ottenuto un tempo di scatto così lento che non è riuscito a congelare completamente gli scatti. Quindi utilizzando l'autoscatto per poter far partire la macchina e poter lavorare di Shanghai. Ne ho posizionati qualcuno già fermo sul piano, quindi per avere una base di Shanghai che fossero statici e naturalmente quando arrivava il momento dello scatto lasciamo andare. Ho fatto diverse prove, quindi non sarà mai prevedibile, non sarà mai un voglio che diventi così. E quindi ho realizzato diversi scatti che stiamo vedendo e alla fine per poter giocare ulteriormente ho fatto anche un montaggio con una sovrapposizione in Photoshop. Se la macchina è su cavalletto, anzi deve essere su cavalletto perché i tempi di scatto lenti farebbero venire troppo tutto mosso, gli scatti diventano tutti uguali come scena, come inquadratura, quindi potendoli sovrapporre su più livelli e modificando il metodo di fusione si otterranno diverse sovrapposizioni in questi scatti con diversi risultati. Quindi potremo giocare prima a fare gli scatti e poi con Photoshop magari anche con metodi di fusione diversi per valutare se possono uscire fotografie interessanti. Quindi un gioco da aggiungere, una nuova idea da aggiungere alle altre già disponibili che trovate tutti nella i e nella descrizione sotto il video dove ci sono tutte le mie novità su fotografie e Photoshop, una quantità esorbitante di tutorial. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.